Ciao a tutti, buona giornata e benvenuti alla diciottesima settimana consecutiva di saluti agli amici del canale. Anche questa settimana alcuni mi hanno scritto dicendomi, Fabio ma la famosa targhetta dei 100.000 iscritti, l'hai ricevuta? Eccola qua, avevo già fatto qualche mese fa un video, se non sbaglio verso gennaio, febbraio, ma poi il canale ha avuto vari ripensamenti e sono ripartito da capo a fine marzo, quindi il canale è come se avesse pochi mesi. Ecco qui comunque la famosa targhetta dei superati 100.000 iscritti, come vedete è un bellissimo ricordo, è un oggetto in metallo abbastanza pesante con dentro il famoso simbolo. Allora, passiamo direttamente al saluti agli amici del canale, vado! Cristian Sol del canale, Linkin e Bomba 13, Scienze Online, Official Channel, Mega Video TV, Manna Game, Leonardo Guarise, il duo del tubo, Veronica Guarnieri, Andrea Ladelfa che suona la batteria, Giorgia Scrivano, Lucia Lalli, che mi dice Buona domenica dal Molise, mi farebbe molto piacere se nel video salutassi me e le mie due amiche, Serena e Chiara. Ciao Serena e ciao Chiara. Poi Marco Vanello, Gianni Alberghieri, Arianna Fantinato, Yolanda Filidoro De Cicco, Toti Manzo, Andrea Zamboni, Geltrudo Dieci, Alessandro Glad TV, Alessandro Ferrari, Anime Manga 02 che suona al pianoforte, Paolo Marziali, Paolo Marziali, che mi dice questo puoi salutare anche le mie amiche, Sandra, Aurora e Alice. Ecco fatto. Poi Manolito Il Capo, Arley Quinn, Giuseppe del canale Peppe 2706, Antonio Cataldo, Simone Vagliani, Claudio Raineri, Revolver 75, Assunque Raffaele il Boss, Davide del canale di youtuber senza nome, che mi dice Puoi salutare la mia classe, la terza C della Dante Alighieri di Pesaro. Ciao ragazzi. Marzia Marchelle, Claudio Peruzzetto, Michi Creeper Confirmed, Didi Mary Cama, Antonio Donadio, Tommy Walked YouTube, Mauro Foglia, Greta Ruboli, Bondio, Riccardo, Eiji Mestrutti Attori. Allora, è lungo questo Riccardo, barra Eiji Mestrutti, barra Attori, spero di averlo letto giusto, Gabriele Marzorati che mi dice saluta anche, mia mamma e mio papà che si chiamano Cinzia e Gianluca Marzorati. Quindi ciao a tutta la famiglia Marzorati. Antonio in bimbo che mi chiede se posso salutarlo, insieme alla sua maestra Angela Rega. Ciao maestra. Poi Giovanni Cannestraro, IT Rex, Luisella Santucci, Daniele Buo che mi dice potresti salutarmi con il nome di Danny Junior Cocco 18. Ecco fatto. E poi se ce la fai saluta anche Mancino James 17 e Buetto. Poi Only Sky Driver 891, Gian Gabriele Menichini, Veseb Dor che mi dice potresti salutare anche la mia professoressa, la prof Leone e i miei amici Giuseppe Mazzilli, Cosimo Damiano Piazzolla e Booker T. Ok mi dice anche l'ultimo si scrive, si legge Booker T. Ok perfetto. Rebecca Battaglino, Lucia Imperato, David Corrente, Matte Vessan che mi dice salutami e saluta anche le mie amiche Chiara, le mie due amiche Chiara che fanno il compleanno, una 10 settembre e l'altra l'11. Beh fantastico ragazzi, tanti tanti cari auguri di buon compleanno. Poi Federica Algeri che lunedì 19 settembre è il mio compleanno, mi faresti gli auguri? Certo caro Federica tantissimi auguri dal profondo del mio cuore, Andrea Ventus 6 che mi dice puoi salutare la mia orchestra Real King DJ e DJ Monna Rozzo e poi saluta Andrea e Simone, tutti salutati. Giorgio Colucci che dice salute i miei genitori per i 44 anni insieme, caspita un bellissimo matrimonio che dura da tanti anni. Mattia Perticari per Fantastic 3 Forever, Valerio Zangrilli, Antonio Guarriello che mi chiede di salutare anche l'amica Giovanni, l'angella, la Giovanna, pardon, rileggo meglio. Antonio Guarriello mi chiede di salutare la sua amica Giovanna, ecco fatto. Poi l'angella, Ricky e co. Matteo Marconi e sua sorella Sara, Barbara Musto. Ioli Mascetti che mi chiede se posso salutare la seconda A e la seconda C e il prof di Rosa, ciao prof. Poi DJ Sammy, poi Rebecca Battaglino, Giorgio Maesta che mi dice nel prossimo video potreste salutare me che suona la chitarra e la batteria e la mia band gli Autoktoni. Bellissimo nome per una band, complimenti. Olga's Word, il cui messaggio, ah ecco, il cui messaggio era finito negli spam ed era vecchissimo. Ci tengo a dire, qualche volta i messaggi mi vanno a finire negli spam ed è un disastro trovare perché sono in mezzo alle altre 10.000 cose, quindi scusami Olga. Rosen Vasiliev, Gianmarco Barzi. Ah, Rosen Vasiliev, l'altra volta se non sbaglio mi aveva scritto che avevo pronunciato male. Spero sia giusto, Rosen Vasiliev. Poi Gianmarco Barzi, Leo Zeta, Valerio Zangrilli, Filo Laff, Ilaria Foresti, Pietro Cavalli che mi dice saluta a me e i 98 giri che è la mia band. Certo Pietro, quindi un saluto alla tua band in 98 giri. Aurora Esposito, James Credentino, Auris Ward, Luca Marutti, Barbara Musto e Gian Gabriele Menichini. Ok ragazzi, anche per questa domenica ho salutato tutti, ci vediamo alla prossima che sarà la diciannovesima puntata dei saluti. Ciao a tutti!